ciao amici e amiche un po di retro gaming sul canale di marco drums games channel resident evil director's cup 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 of tea the marco drums games andiamo con gil valente o chris redfield andiamo con chris dai il significo inglese di marco drums qui siamo retro retro gaming remastered alfa team is flying around the forest zone situated in northwest raccoon city where we're searching for the helicopter of our compatriots bravo team who disappeared during the middle of our mission no i haven't found it yet bizarre murder cases have recently occurred in raccoon city there are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people victims were apparently eaten bravo team went to the hideout of the group and disappeared it was bravo team's helicopter nobody was in it but strangely most of the equipment was still there however we soon discovered why hey come here joseph joseph no don't go no don't go no don't go Jill, run for that house! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Resident Evil. Bella raga. Resident Evil. Uau, 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 uau. Uau, amici, uau, amici. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. The start. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Chris? Chris. Chris? Chris? Dio Dio ragazzi Sto andando in retro perchè ma come si guida sto rovo no dai serio al contrario Allora devo andare ma è un casino E' un casino amici allora coltello Ecco qua allora ragazzi è un disastro io devo andare giu devo andare su Allora raga ce la possiamo fare eh ok forse Allora devo andare su vado in a destra Mamma mia raga Lucchiettata Sembro ubriaco per andar dito è un casino Eh si ho capito allora Devo tornare indietro Mamma che comandi strani non sono più abituato a questi comandi così C'è qualcosa di qua? Uh c'è qualcosa Oh mio Dio Ok Equipaggio Combat No 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 Non si può combinare con niente Come esco da qua? Come si fa Come si fa X Quadrato Cerco Qual è il tasto? Impostazione Video Controllo Non c'è i tasti Dai una botta Dai una botta Che sto Mi sta distangando Bellissimo You die Bellissimo ragazzi Allora Primo Video con Resident Evil Director's Cut Sul canale di Marco Drums Games Channel Vi aspetto per la nuova rubrica Retro Gaming Ciao amici e amiche Mi raccomando di seguire il mio canale Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch Ma soprattutto Twitch per le live E qui dove posto questi video strafichissimi Su Youtube Iscrivetevi, commentate, mi piace E fate un po' di pubblicità al canale Grazie amici E ci vediamo al prossimo video Retro Gaming La nuova La nuova Ciao amici e 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 am